In due giorni è stato praticamente due instant date Tre instant date, esatto In due giorni tre instant date, uno ieri e due oggi Sono riuscito a chiudere la mia prima ragazza Chiudere cosa vuol dire? Per chi non lo sa sarebbe sesso effettivamente chiudere Vorresti dominare le tecniche psicologiche che ti permetteranno di diventare un uomo altamente desiderato? Tutto questo grazie alla guida di un esperto che ti dirà cosa dire e cosa fare in tempo reale Al punto che già il giorno stesso ti potresti trovare in camera diretto Con una di cui non conoscevi neanche il nome fino a poche ore prima Se sì, partecipa a un corso al vivo con Davide Nuovo coach ufficiale di appracciala.it Dal 9 al 13 luglio puoi iscriverti a meno di metà prezzo Al prezzo più basso che abbiamo mai avuto per i corsi al vivo Per maggiori informazioni clicca sul link in descrizione Hai domande o dubbi? Scrivi gratis su whatsapp a un nostro consulente esperto Anche qui trovi il link in descrizione Promozione limitata soltanto alle prime 10 persone Bene, siamo qua con lo studente anonimo Che ha appena concluso il corso dei due giorni E ci racconterà un po' Cosa è successo? Ok, ma allora Punto di partenza Direi praticamente Qualche esperienza Ma con il game Zero Partito da zero Cioè mai fatto approcci per strada di giorno Mai Mai provato quasi del genere Di conoscere Luca Di conoscere Luca E niente Poi ho iniziato a fare la prima pratica Con il corso Con il suo corso Con il suo videocorso E comunque Già I primi piccoli risultati Li ho visti Non così tanti Comunque Ad esempio Cioè in praticamente Tre settimane Sono Cioè Sono riuscito a chiudere La mia prima ragazza Chiudere cosa vuol dire? Perché Per chi non lo sa Sarebbe Sesso Effettivamente Chiudere E Dopo più o meno Trentrapparocci Che in realtà Non sono neanche Cioè Non sono neanche così tanti Sono anche abbastanza pochi Però Ovviamente È soggettiva la cosa Perché Dipende Cioè magari Qua è fortuna A volte Comunque Dipende Vabbè Sono riuscito A vedere risultati Ma La cosa Più buona Diciamo che Mi piace Del game È che Appunto Io in certi momenti Non sapevo Non avevo una strada chiara Di come fare Per aver Più successo Con le ragazze In generale Da quando ho capito Già quando ho scoperto Questa cosa del game Di Come lo insegna Luca Perché Prima conoscevo anche altre Avevo sentito di altre scuole Però Non mi piaceva Quello che spiegavano Come te la mettevano Diciamo così Invece da quando ho scoperto I contenuti Che Luca propone Quello che Che ti insegna Alla fine Mi si è aperto un mondo Ho capito Che c'è una strada Che tu puoi percorrere E che se fai Con la strada Che non è facile Perché Richiede impegno Eccetera Al di là di comprare Il corso Però c'è una strada Che se tu fai Puoi ottenere risultati Anche Grandi Ovviamente sempre Con il giusto impegno E Appunto Ho deciso di Prendere questo corso Da Luca Perché Avevo l'intenzione Di migliorare Sapevo che comunque Puoi migliorarti Se c'è l'intenzione Puoi sempre migliorare In qualsiasi cosa Però Non avevo appunto Una strada chiara Su come migliorarmi Appunto Nel settore Sentimentale Di conoscere ragazze Eccetera Adesso so che Se voglio Ottenere Determinati risultati La strada Più veloce Perché ovviamente Non è l'unica Ma quella più veloce Che ti permette Di conoscere più ragazze In poco tempo Fare molta esperienza In relativamente Poco tempo È quella del Del day game O altri tipi di Approcci Altri tipi Ad esempio Comunque il game Principalmente Penso sia la cosa Che ti permette Di conoscere più ragazze E niente La prima difficoltà Che ho riscontrato Da subito Iniziando a A praticare Perché io ho iniziato Praticamente all'inizio Da solo E La prima difficoltà Che comunque È quella che incontrano tutti Ma che ho Provato anche sulla mia pelle È quella del Cioè dell'ansia di approccio Che dato che è una cosa Strana Che nessuno fa È una cosa che non viene vista Di buon occhio Dalla società Ovviamente All'inizio C'è come un muro invisibile Che ti ferma Da fare l'azione Però Ovviamente Questa cosa Si può Si può superare Non è facile Perché Richiede impegno Ma Attraverso quello che dice Luca E Soprattutto Mettendolo in pratica Già si Diciamo Si riesce a Oltrepassare questa cosa Ma io ho visto Molte differenze Soprattutto nel Nel corso dal vivo Dove praticamente Cioè È quasi impossibile Che non venga Non venga tolta questa paura Di fare gli approcci Io spenderei qualche parole Sul discorso Del superare Anziché Rimuovere La si approccia Anziché superarla Il lavoro che abbiamo fatto È mirato Nel rimuovere La paura Anziché superarla Semplicemente C'è stato un momento In cui Oggi Appunto È un secondo giorno Dove Si è vista Molto la differenza Si Perché praticamente Quello che Luca Spiega Non è semplicemente Di andare A fare l'approccio E quindi Vai per forza E quello che succede Succede No Lui Praticamente Ti fa togliere Quest'ansia E Praticamente Per me oggi Era Semplicissimo Come fosse diventata Una cosa normale Andare Da una diva E Parlargli E fare l'approccio E chiedergli Non lo so Che poi comunque Sono sempre approcci diretti Dirgli Mi sembravi carina Ho pensato di venire A parlarti Queste cose Cioè Diventa normale Perché Comunque Il metodo Che Luca usa Fa proprio Scomparire Questa Quest'ansia Che si Che si aprima Lui Nel corso dal vivo Pramente Io sono Abbastanza sicuro Che ho fatto Più esperienza In questi Due giorni Di corso dal vivo Che Nel lavoro Che ho fatto da solo Penso Comunque si possa fare Anche da solo Come lavoro Però Cioè Questo Lavoro che ho fatto Questi giorni È stato assurdo Cioè Io non sono mai stato Così ad approcciare Così tranquillamente Ad approcciare Non ho mai fatto approcci Così tranquillamente E A livello di bilancio Totale Qualcosa ci abbia dato fuori? Come bilancio Il numero di telefono Non è un risultato Quindi non ha Sì No Non contano i numeri di telefono In realtà Ma in due giorni È stato praticamente Due in stand date Tre in stand date Esatto In due giorni Tre in stand date Uno ieri e due oggi E Due Diciamo Baci Tentati Che però Per errori fatti Da parte mia Diciamo Non sono stati proprio Ricambiati Però Ok Cioè So che Avrei potuto Fare meglio Un primo appuntamento Con una ragazza Il fatto è che Non c'è nessun trucco Però Quello che Diciamo Ho capito È che se Cioè Questa è la strada Che Con impegno Con le informazioni giuste Ti può permettere Di avere risultati In un Cioè Risultati In questo campo È la strada più veloce Che ti permette Di avere risultati In questo campo Ovviamente Il mio consiglio più Cioè Che migliore che posso dare È che Non pensate di comprare Il videocorso E Cioè Aver già risultati automatici Ma Videocorso più Impegno Nel tempo Ovviamente Porta Porta risultati Perché Non ci sono Altre Altre possibilità Con quello che insegna Si è applicato Con persistenza Alla fine In un modo o nell'altro Ti fa avere Le abilità Che ti permettono Di essere bravo Con le ragazze No no Sono felice Perché Dai ragazzo Stavolta è andata bene Anche con il ciclo È andata bene Dai l'ho chiusa comunque Era pure una bella ragazza Cioè mi piace E probabilmente La rivedrò Perché Mi ha detto Vorresti dominare Le tecniche psicologiche Che ti permetteranno Di diventare Un uomo Altamente desiderato Tutto questo Grazie alla guida Di un esperto Che ti dirà Cosa dire E cosa fare In tempo reale Al punto Che già il giorno stesso Ti potresti trovare In camera da letto Con una di cui Non conoscevi Neanche il nome Fino a poche ore prima Se si Partecipa A un corso al vivo Con Davide Nuovo coach ufficiale Di approcciala.it Dal 9 Al 13 luglio Puoi iscriverti A meno di metà prezzo Al prezzo più basso Che abbiamo mai avuto Per ricorsi al vivo Per maggiori informazioni Clicca sul link In descrizione Hai domande o dubbi? Scrivi gratis Su whatsapp A un nostro consulente esperto Anche qui trovi il link In descrizione Promozione limitata Soltanto alle prime 10 persone